Allora, ti abbiamo chiesto già molte volte quanto è difficile produrre un film del genere in Italia eccetera eccetera, voglio sapere adesso che il film un po' è uscito in un circuito limitato di festival e i produttori l'hanno cominciato a vedere, ti sembra che stia cambiando un po' una situazione che le reazioni siano diverse? Beh, sicuramente è cambiato l'atteggiamento dei produttori nei miei confronti, quando prima mi dicevano questa cosa non si può fare, adesso mi dicono tu hai le chiavi di casa e puoi fare quello che vuole e quindi io dico ma ti a te le chiavi di casa? No scherzo, scherzo, no per carità, bisogna poi dopo utilizzare tutti gli strumenti per poter fare il cinema che in qualche modo uno spera di poter fare. La situazione non lo so perché comunque il film ha avuto una accoglienza super calorosa e trasversale alla festa del cinema di Roma, è stato accolto nello stesso modo a Lucca Comics & Games e poi l'hanno visto adesso in Francia, anche lì si sono molto divertiti però io aspetto il pubblico vero e secondo me lì posso dire che è cambiato qualcosa, è cambiato qualche cosa per me come regista e quindi nella possibilità di realizzare qualcos'altro che sia di genere, però bisogna capire adesso se il pubblico lo accoglie e questa è la diciamo l'attesa che non riesco ad attendere. Quanto speri di poter fare? No dai questa è una domanda che tu già mi hai fatto, quanti soldi spero di... ma no ma io spero che la gente si diverte e lo vado a vedere sostanzialmente questo, perché è un film che diverte molto, che emoziona, che ha dell'azione, ha tante contaminazioni, quindi comunque intrattiene su più livelli. Spero soltanto che gli venga data la fiducia, perché ho visto magari sui social network a volte si lanciano in delle massime da haters, i famosi haters che un po' mi dispiace perché vabbè però quello probabilmente nasce a volte da una frustrazione perché poi le critiche in modo appunto dal critico adulto o da chi comunque fruisce il cinema in modo un pochino più da pubblico medio o dall'esperto, quantomeno si assomigliano tutte quanti. Il pubblico stesso che l'ha visto ha partecipato con entusiasmo, ma diamogli un attimo la fiducia a sto film. E secondo me la cosa importante è che il primo weekend la gente vada, lo vada a vedere e quando lo vedrà, secondo me, dirà all'amico guarda fatta vedere sto film, adesso lo metti e diverti un sacco. Un miliardo, sì. Dopo un milione di visioni, qual è la scena che ti piace fare? Ogni volta che la vedi dici cavolo, questo è veramente venuto a vedere? Guarda, sicuramente l'incontro, non lo so, non saprei perché ogni volta scopro qualcosa di nuovo e ne scopro chiaramente i difetti che non devo assolutamente rifare prossimamente. però è la scena dove mi emoziono di più. A volte mi emoziona la capacità di Claudio di essere così raffinato nelle emozioni, così sottile. Ed è un film che va visto al cinema perché Claudio Santamaria è proprio un attore di cinema, è uno che lavora su delle piccolissime cose e quando mi accorgo di quelle sfumature mi emoziono tantissimo. Quando poi lui nello specifico abbraccia una persona nel film, una signora e incontra l'abbraccio di qualcuno, il suo volto in quel momento che è stupito, perché noi raccontiamo di un dissociato che non vuole avere a che fare col mondo, che non gli riconosce nulla, anzi sono solo dei pezzi di merda con i quali non bisogna avere a che fare, in quel momento lui fa una faccia e la macchina lentamente si avvicina. Io quella scena che è complicatissima perché prima ci sta il fuoco, le cose, l'ho girato in un giorno, quella da piano di lavoro era tre giorni e facevo girare l'operatore in continuazione. Ha girato 30 minuti con la stedica, mi faceva vai avanti, vai indietro. È assurdo come è stata realizzata quella cosa, invece in quel momento c'è una magia. Avevo messo la macchina in ralenti e Claudio abbiamo beccato, sai, l'attore che vive con l'emozione è la macchina che partecipa, con l'operatore che l'ha sentita, perché poi gli operatori bravi sono quelli che sentono anche l'attore e quindi gli si avvicina e quel movimento non è gratuito per niente, è un entrarci dentro. Quella è una scena che mi strugge, sempre. Come avete imprimato il tuo personaggio? Tantissime cose insieme, una persona normale che poi sembra essere diventata come impazzita, però sotto, senti ancora, la linea romantica ma è anche qualcos'altro. Insomma, alla fine come ci siete arrivate a questo grande miscuglio? Come ci siamo arrivati? No, praticamente Alessia in realtà è una bambina, no? Allora, lei è una bimba imprigionata all'interno di questo corpo, no? Di una donna e inoltre in realtà lei ha subito tantissime violenze, tantissima, molta sofferenza dentro di sé, no? Però in qualche modo lei ha fiducia, cioè si fida, ha fiducia ancora nella gente, no? La vuole salvare e quindi vede nella figura di Enzo e poi Claudio Santamaria è una luce, proprio secondo me, no? E si rifugia poi dentro questo cartone animato che è Gig Robò, ma perché comunque penso che poverina non sia in grado proprio di accettare la realtà in quel momento. Cioè, in genere, per chi ha delle sofferenze così forti, io credo, perché poi mi sono pure relazionata, mia madre aveva una casa famiglia per cinque anni, quindi, insomma, abbiamo avuto modo di conoscere anche ragazze che hanno avuto quelle problematiche. In genere, otte droghi, praticamente, e quindi che è un'altra evasione dalla realtà, un altro modo di evadere dalla realtà, no? E quindi per lei quel cartone animato è tipo una droga, secondo me, c'è proprio rifugiarsi in un altro mondo che non esiste e addirittura lei le persone che gli hanno fatto del male rifiuta anche quelle. Cioè, lei pensa che in realtà quasi non esistono quelle persone, sono immaginarie, non sono mai esistite nella sua vita perché forse, non lo so, sarebbe, forse non era capace a sopravvivere o forse semplicemente era una ragazza che, non è riuscita a crescere nel modo giusto per tutta una serie di motivi che poi nel film vedrete.